A Cargeghe e Ittris sono fermate le ultime tappe di Coros in Fiore, la manifestazione di sensibilizzazione all'ambiente e al decoro urbano, organizzata dall'Associazione Creo per l'Unione dei Comuni del Coros. A Cargeghe la Flor Garden ha allestito decorazioni florovivaistiche nell'angolo già dedicato allo scrittore francese Valéry, autore del Viaggio in Sardegna, il quale descrisse il dipinto La Sacra Famiglia di Gorini, custodito nella chiesa di San Quirico. I fioristi locali di Isola Verde e Orchidea hanno vestito la piazza Marconi di Ittiri dove l'Associazione Prendas ha imbandito tavoli espositivi dei pregiati prodotti ittiresi. Nei due paesi la cooperativa Comes ha organizzato dei laboratori creativi dedicati ai bambini delle scuole sui temi del riciclo dei materiali e del rispetto dell'ambiente, soddisfatti dell'iniziativa i sindaci dei due centri. Un'occasione per sensibilizzare ancora di più i cittadini su un corretto utilizzo degli strumenti della raccolta differenziata, sul recupero dei materiali e sulla condivisione dell'esperienza. Il sistema di raccolta fatto insieme ha dato a tutti dei vantaggi, migliorando la qualità della vita e diminuendo anche i costi. Sensibilizzare i cittadini a un maggior rispetto all'ambiente ma anche a quello che deve essere una nuova forma di arredo e di decoro delle nostre città che fino ad oggi hanno puntato sulle classiche opere pubbliche, quindi sulle collate di cemento che invece dovrebbe privilegiare il decoro inteso come il rispetto alla valorizzazione delle nostre peculiarità ambientali. Le serate si sono concluse con i concerti dell'Associazione Rhyme Negre, frammenti di jazz dedicati ai grandi autori del genere musicale.